Nonostante i continui proclami per una sanità a misura di cittadino, nelle strutture dell'asla salernitana non è sempre facile sottoporsi ad una visita o ad un esame diagnostico e così capita che sempre più spesso persone indignate si rivolgano alla nostra redazione con la speranza che almeno a parlarne qualcosa cambi o almeno che qualche politico, sentendosi toccato, prenda in mano l'argomento e lo affronti seriamente, non per pura propaganda politica. A parole sono tutti difensori della sanità, ma nei fatti, anche in questa circostanza, hanno evidenziato i cittadini che ci hanno sollecitato nessuno difende negli ospedali salernitani né tantomeno la sanità locale più in generale. Anche questa volta a scatenare le proteste sono stati i lunghi tempi di attesa prima di poter eseguire un esame. Da Sapri a Vallo della Lucania, passando per Polla, il ritornello è sempre lo stesso, è necessario aspettare qualche settimana prima di poter essere inserito nelle liste d'attesa. 24 aprile, la data dell'appuntamento da segnare in agenda per una signora che tramite il centro unico di prenotazione aveva chiesto di eseguire un ecodoppler all'ospedale Immacolata di Sapri e questo soltanto uno dei tanti casi segnalati alla nostra redazione. Prova evidente che nulla è cambiato, nonostante gli annunci levati da più fronti nei mesi scorsi in seguito ad analoghe denunce.